E ora parliamo dei riti della settimana santa, oggi giovedì giorno di sepolcri e delle prime processioni tra cui quella del Ciraneo a Lanciano con la processione degli incappucciati questa sera nelle strade del centro storico, poi nella notte quella di Teramo della Desolata. Tutti i riti che seguiremo, i principali, nella trasmissione in onda domani sera alle ore 21 su Rete 8 che culmineranno le altre processioni con quella di Chieti. E proprio da Chieti vedo con due ospiti la nostra Edmondo, Gigliola Edmondo, con l'anteprima di quello che accadrà domani e che seguiremo con le nostre telecamere proprio da Piazza San Giustino. A te Gigliola. Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno seguendo e siamo in Piazza San Giustino con Andrea Berardinelli e con l'avvocato Marco Giannini che è il segretario dell'Arcidiocesi del Sacro Monte dei Morti. Che dal 1600 è l'istituzione che organizza la processione del Venerdì Santo di Chieti che riesce a calamitare l'attenzione, poiché è una delle più antiche, secondo alcuni studiosi la più antica d'Italia, riesce a calamitare l'attenzione di persone che arrivano anche dall'estero. In questo momento infatti a Chieti c'è anche una troupe che è arrivata dagli Stati Uniti d'America. Alla mia destra c'è il comandante della Polizia Municipale, il colonnello Donatella Di Giovanni. Intanto li ringrazio entrambi per aver accolto il nostro invito, per poter anticipare cosa sta accadendo a Chieti in vista della processione di questo importante evento della Settimana Santa a Chieti. Comincio proprio dall'Avvocato Giannini. Ci saranno delle novità che riguarderanno il percorso che seguirà la processione? Sì, da quest'anno c'è una variazione, si ritornerà al percorso di tre anni fa, quindi si scenderà la strada dei Crociferi, invece di imboccare direttamente via degli Agostiniani si proseguirà per via Vicoli, quindi si toccherà Largo Sant'Agara, una delle chiese più antiche di Chieti e più importanti, poi proseguire via Vicoli, poi rimboccare via degli Agostiniani e poi proseguire il corso Marruccino, quindi il percorso tradizionale della processione. La processione aveva variato il suo percorso anche dieci anni fa, nel 2009 in occasione del terremoto dell'Aquila? Sì, lì la scelta fu dettata esclusivamente da motivi di sicurezza, quindi si uscì sempre dalla cattedrale, poi si imboccò via Aereo, via Pianel, si scese verso la Trinità per poi rimboccare il corso, quindi un percorso molto ridotto rispetto all'attuale ma dettato da motivi di sicurezza. E a proposito di sicurezza, bisogna recepire quando si organizzano eventi di questa portata le direttive del Ministero dell'Interno e la mobilità in città verrà regolata proprio in occasione di questa importante manifestazione da delle ordinanze, due che sono state emesse proprio dal comandante Di Giovanni, quali sono? Sì, certo, noi naturalmente a seguito delle riunioni che sono state fatte proprio in relazione a questa nuova normativa specifica abbiamo emesso delle ordinanze relativamente alla viabilità ordinaria. Naturalmente l'ordinanza del venerdì santo è un'ordinanza piuttosto complessa, la caratteristica è che viene ad essere predisposta o perlomeno vietata la sosta sull'intero percorso della processione e poi invece la particolarità è il divieto di transito, quindi faremo una sorta di cuscinetto intorno al centro storico. Tutte le macchine verranno deviate sulla parte esterna. Vorrei precisare, questo è importante, che la chiusura delle strade verrà prevista a partire dalle ore 16.30, per cui fin tanto che c'è la possibilità io invito a utilizzare le strade, però tenete anche conto che dalle 16.30 ci saranno quindi le deviazioni e non sarà più possibile raggiungere il centro storico. C'è anche un'ordinanza che è stata emessa dal sindaco di Chieti, l'avvocato Umberto Di Primio, che riguarda il consumo delle bevande, è vietato portare lungo tutto all'area che sarà interessata proprio al percorso della processione del Cristo morto, non potranno essere portate bevande in bottiglie in vetro, così come gli esercenti, i commercianti, tutti coloro che hanno le attività commerciali in quest'area, non potranno tenere tavolini e insomma penso che ci siano queste le principali. Assolutamente, sì, il sindaco ha emesso due ordinanze, una per il divieto di utilizzo del bevande nel vetro e nello stesso tempo diciamo un'ordinanza che impone ai commercianti che si trovano lungo il percorso della processione di ridurre le occupazioni, quindi eliminare i tavolini ma le occupazioni fisse proprio con una riduzione. Gigliola, prima di salutarci, un'ultima curiosità ovviamente rimandando il tutto allo speciale in onda questa sera alle ore 20.05 in cui approfondiremo tutta la vigilia della processione del Cristo morto a Chieti, un'ultima curiosità proprio relativa all'accesso, a che ora conviene arrivare a Chieti per chi vuole andarci per la prima volta, non conosce appunto queste situazioni, a che ora conviene e dove conviene parcheggiare? Questa credo che sia l'indicazione più richiesta in questo momento, quindi non so se la comandante ci può venire in soccorso. Sì, ed era la domanda che stavo per fare poi in conclusione, sì, per chi arriverà a Chieti, a che ora conviene arrivare e soprattutto dove bisogna parcheggiare per non incorrere in sanzioni? Certo, questa è la cosa più importante. Allora, arrivare prima delle 16.30 per poter parcheggiare nelle zone dove è consentito. A questo proposito vorrei anche ricordare che il viale della villa, quindi il viale 4 novembre, prevede degli stalli proprio riservati ai portatori di contrassegno per disabili. Invece, oltre alle 16.30, quindi non c'è più la possibilità di accedere all'interno del centro storico, per cui tutti coloro che arrivano, siano da fuori che dalla città, sono invitati, anzi noi proprio lo consigliamo vivamente, ad andare a parcheggiare nella zona del Palatricalle in modo da poter utilizzare il bus navetta che ha un passaggio ogni 15 minuti, per cui ha anche la possibilità di ritornare alla fine della processione, perché se non sbaglio l'ultimo passaggio è intorno alle 22.45. Grazie comandante Di Giovanni. Una piccola raccomandazione anche dall'avvocato Giannini, che ringrazio e ringraziamo anche il governatore dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, il dottor Giampiero Perrotti. Una raccomandazione, non scordare che questo non è un evento folkloristico, ma è un rito religioso, quindi massimo raccoglimento, massimo silenzio durante il passaggio della processione. Grazie, restituiamo la linea allo studio, buon proseguimento. E che per chi non potrà andare, per chi sarà andato, invece sarà già tornato a casa, perché sarà al termine della nostra trasmissione, ricordiamo alle ore 21, domani sera tutti i riti della settimana della Passione in Abruzzo e proprio in conclusione la processione del Cristo morto a Chieti. Grazie Gigliola, processione che sarà commentata anche quest'anno dal collega Sergio Zappalorto con la consulenza di Aurelio Bigi.